Un posto al sole, nuove puntate, Nico potrebbe Manlio ed evitare la morte di Lello. Nico sarà al centro delle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022. Il giovane avvocato si ritroverà coinvolto in una vicenda intricata, legata all'assassinio della sua amata Susanna e a desiderio di Manlio di prendersi la sua rivincita contro Lello Balsano. Ecco allora che Nico appoggerà il piano criminale di Manlio, video, che vuole far uccidere Lello ma nel corso dei giorni a seguire, inizierà ad avere dei dubbi e potrebbe venire meno alla parola data al padre della sua amata Susanna. Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole in onda durante il mese di dicembre in tv, saranno incentrate sulle vicende di Nico. Il ragazzo, infatti, si ritroverà coinvolto nel piano criminale di Manlio che, dopo aver saputo dello sconto di pena che potrebbe essere dato a Lello Balsano. L'assassino di Susanna, ha deciso di scendere in primo piano per farsi giustizia. Manlio ha chiesto a Nico di trovargli una somma di denaro sufficiente per poter assodare dei suoi amici malavitosi, conosciuti in carcere, e far procedere loro con l'uccisione di Lello. In un primo momento, Nico ha avuto dei dubbi in merito al piano criminale di Manlio ma alla fine ha scelto di accogliere la sua richiesta. Di conseguenza, il giovane avvocato pur essendo consapevole dei rischi che stava correndo, ha deciso di mettersi all'opera per cercare i soldi necessari che sarebbero serviti per pagare gli assassini di Lello. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tale situazione, nel corso delle prossime nuove puntate, manderà in crisi Nico e insospettirà anche suo figlio. Il piccolo Jimmy si renderà conto che questo atteggiamento di suo padre nasconde qualcosa di preoccupante. Motivo per il quale ne parlerà con Manuela. La cognata di Nico, preoccupata dalle parole di Jimmy, deciderà di indagare e le anticipazioni della SOP rivelano che l'avvocato potrebbe essere stoppato in tempo prima di attuare fino in fondo il suo piano con Manuio. Insomma, non si esclude che nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole 2022, Nico possa mandare all'aria il piano criminale di Manuio e in tal modo tradire la parola data al padre di Susanna. Il figlio di Renato, infatti, potrebbe mandare all'aria il piano criminale dell'uomo e in tal modo evitare la morte di Lello, che sembra essere condannato ad un destino già scritto. Nico si renderà conto che questo tipo di vendetta non è ciò che avrebbe voluto in primis Susanna. Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi di Upa su Rai 3. Non am nimic de ascuns, pot să mă sus tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac, poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân, pe ce fac și ce spun știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever, s-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, enti pur de caractere, și văd cum...